Sono trecento anni che combatto per l'ordine. Ho ucciso migliaia di orchetti e difeso decine di brecce. E questa è la fine. Scivolo sul sangue di un cobolto e mi spacco la testa sui gradini della bortineria. Così il compito di difendere la fortezza ricade sul mio... apprendista. Quindi è la fine. Il mondo è condannato.